Un saluto a tutti voi, edizione della notte del telegiornale, in apertura parliamo sempre di economia, nel settore tessile ci sono diversi imprenditori che hanno comunque ancora intenzione di investire, soprattutto nella zona di Sernia, a forte vocazione in questo comparto. Nei giorni in cui si decide il futuro dell'ITR ci sono anche gli incontri tra Rosati e i commissari governativi, ci fa il punto della situazione in questo servizio Enzo Di Gaetano. Vicenda ITR, incontro a Isegna tra i commissari governativi della legge Marzano e la proprietà della Oti, ovvero Antonio Rosati. Si parlerà dell'eventuale fitto degli uffici e dei capannoni della vecchia ITR, lì dove dovrebbe avere sede la Oti. Ma non tutto è scontato. Infatti Rosati non sembra avere affatto intenzione di confermare il precedente contratto di fitto tra i commissari e Bianchi, da 700 mila euro annui. Non se ne parla neanche, hanno detto i collaboratori del vicepresidente del Genoa Calcio, patron della Oti. Solo di fronte ad una congrua riduzione dell'importo, Rosati potrebbe prendere in esame la permanenza a Pettoranello. L'impressione è che alla fine le due parti si metteranno d'accordo, magari la Oti non fitterà tutti i locali dell'ex ITR o magari i commissari rivedranno le loro pretese economiche. Intanto anche le nuove iniziative del settore tessile che stanno approdando Isernia cercano casa. L'amministratore di Missardi, Massimo Calugi, starebbe valutando la sistemazione negli ex capannoni GTR a Pettoranello. Una collocazione che non avrebbe bisogno di grossi interventi in quanto era già sede di un'industria tessile. In conclusione, dopo la fine ingloriosa dell'ITR, fortunatamente per Isernia, non mancano le iniziative, con un'occupazione pronosticabile in circa 200 unità complessive. Certo l'ITR arrivava a 650, ma l'importante è ricominciare. Chiudendo con le vertenze in atto da segnalare la protesta che i dipendenti delle ex esattorie stanno organizzando per mercoledì al Consiglio regionale. Sotto accusa la regione incapace, dopo più di un anno, di varare un nuovo servizio di riscossione tributi. La città di Viterbo, anch'essa servita dai Marcucci, sta già emanando un bando che prevede clausole di salvaguardia per gli ex dipendenti. Viterbo sì, Molise no, c'è da vergognarsi. Parliamo di istruzione perché oggi sono tornati a scuola molti ragazzi in tante regioni italiane, anche due istituti di Campobasso hanno aperto i cancelli dopo la proroga ottenuta nei giorni scorsi, ma siamo anche alla vigilia dell'anno accademico. Andiamo con ordine, partiamo proprio dall'Università perché il Rettore Gian Maria Palmieri ha parlato dei tagli che ci sono stati nel Governo. L'Università del Molise è solo sfiorata da questi tagli. L'Ateneo si salva, ha detto il Rettore, grazie a corsi di eccellenza e moderni. Il servizio di Giovanni Minicozzi. Chiude o non chiude, era questo il dilemma che serpeggiava tra gli addetti ai lavori e, nell'opinione pubblica, all'indomani dei tagli annunciati dal Ministero dell'Università e della Ricerca a danno degli Atenei minori, compreso quello molisano. Alla vigilia del nuovo anno accademico il pericolo sembra del tutto sventato, grazie alla incisiva azione di riorganizzazione e di rilancio caparbiamente messa in campo da Gian Maria Palmieri. Il Rettore ha giocato le sue carte puntando decisamente sull'innovazione e sull'eccellenza della nuova offerta formativa legata sempre di più alle peculiarità del territorio e ha vinto la partita. Le prospettive sono buone, abbiamo dei segnali molto incoraggianti nell'ambito della campagna iscrizioni 2014-2015, abbiamo ritoccato la nostra offerta formativa, confermato le sedi di Sernia Pesche e di Termoli e devo dire che l'azione che stiamo tutti insieme svolgendo sembra dare buoni frutti. Dunque in qualche modo ci siamo salvati dalla possibilità dei tagli imposti dall'alto? Ma è in corso di emanazione il decreto ministeriale che stanzia il Fondo di Finanziamento Ordinario per le Università italiane. Dalle notizie che ho avuto alla conferenza dei Rettori, esaminando la bozza del decreto, grazie all'impegno dei docenti e del personale tecnico-amministrativo di Unimol abbiamo dei livelli di eccellenza che ci consentono di patire un taglio inferiore rispetto agli altri Atenei. Siamo abbastanza ben messi. Ma perché uno studente molisano di fuori regione dovrebbe iscriversi all'Università del Molise? È un Ateneo a misura d'uomo, è un Ateneo con punte di eccellenza, un Ateneo con un'offerta formativa moderna che si è arricchita. Possono trovare gli studenti del Molise e delle regioni limitrofe qualità a costi davvero contenuti rispetto alla concorrenza sotto casa. La loro è una scelta vincente, non quella di giovani che abbandonano questa regione caricando le famiglie di decine di migliaia di euro all'anno per andare a iscriversi senza ragione fuori e spesso capita che poi a 30 anni i ragazzi tornano senza avere né arte né parte. Quali sono i rapporti di Unimol con le istituzioni e in particolare con la regione? Abbiamo già acquisito la stipula di un accordo quadro che è in materia di eccellenza del sistema universitario regionale che ha anche dei profili che attengono alla sanità. Ce n'è un altro sul centro di studi appenninici. Abbiamo questi rapporti buoni di interlocuzione. naturalmente noi siamo assolutamente fiduciosi sulla circostanza che questi accordi saranno onorati da tutte le parti. Il Rettore infine ha preannunciato un accordo di collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II per sviluppare la ricerca universitaria anche nel settore della sanità. Dicevamo dei problemi e dei temi legati al mondo scolastico. Se ne è parlato nel corso della festa del Partito Democratico a Monteroduni, il servizio è di Sergio Di Vincenzo. Sono stati trattati anche i temi più caldi del mondo della scuola durante la festa dell'unità di scena a Monteroduni. Lo spunto è stato offerto dalla presenza di Francesco Sinopoli, segretario nazionale della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza della CGL. Tra gli argomenti trattati la stabilizzazione dei precari annunciata dal governo. Il punto è che bisognerà capire se poi delle risorse ci sono. Naturalmente noi speriamo che questi annunci del governo corrispondano a fatti. La proposta sul reclutamento, sulle assunzioni, la proposta che noi condividiamo, altre cose del piano scuola meno. Però certamente sulle assunzioni crediamo che sia un'ottima cosa ed è una risposta che si aspettava da anni. Ma la scuola non è solo questo. Sono molte altre le questioni risolte. C'è un approccio al mondo della scuola che ha un taglio fortemente manageriale. Non è detto che sia la strada migliore rispetto all'organizzazione del lavoro, rispetto anche alle carriere degli insegnanti. Abbiamo delle perplessità. Faremo sentire la nostra voce, avanzeremo delle proposte. Riteniamo che il contratto collettivo nazionale di lavoro degli insegnanti, come del resto degli altri lavoratori della pubblica amministrazione, dovrebbe essere anche oggetto di attenzione da parte del governo, perché c'è un problema salariale e invece ci sembra che questo aspetto sia fortemente sottovalutato. E poi c'è un punto singolare, una riforma della scuola che parla molto poco di studenti. Intanto anche sul fronte della scuola il Molise continua a pagare prezzi altissimi. Pluriclassi organici carenti compromettono la qualità dell'istruzione. Il piano per la scuola che preveda non un approccio come quello che ha caratterizzato la scuola negli ultimi anni, cioè con un ragionamento economicista che interviene sulle classi sulla base semplicemente di un calcolo economico, ma con un grande piano formativo che riguardi le esigenze di un territorio. Così si risolvono i problemi dei territori come il Molise e come il resto d'Italia. Ed è quello che in questo momento continua a mancare. C'è una domanda sociale di sapere a cui bisogna dare risposte e c'è una prospettiva per il Paese che non può che basarsi sull'istruzione, sulla scienza, sulla tecnologia e questo dovrebbe essere il cuore dell'azione del Governo dal nostro punto di vista. Costi della politica e conflitto di interessi tornano a far sentire la propria voce gli indignati. Hanno di nuovo sollecitato l'intervento della Commissione per la legge da loro proposta. In caso contrario, hanno detto, salirà il tono della protesta con iniziative clamorose. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Tornano alla carica gli indignati ed annunciano iniziative più incisive per indurre il Presidente della Regione Frattura e l'intero Consiglio regionale a dare voce alle 6.000 persone che hanno sottoscritto la proposta di legge di iniziativa popolare sul taglio le indennità dei consiglieri. E visto che quella proposta di legge è rimasta nel cassetto della prima Commissione, gli indignati stanno valutando l'ipotesi di occupare proprio la Commissione per rivendicare il rispetto della volontà dei cittadini. Ma se non dovessero raggiungere l'obiettivo sperato, si sposteranno nell'aula consigliare di Palazzo Moffa. Lì ci resteranno fino a quando non avranno ottenuto una risposta chiara e soprattutto definitiva. Noi intanto rivendichiamo il merito di essere riusciti a far abolire l'articolo 7, brogare l'articolo 7 da parte del Consiglio regionale. A proposito, ma quei soldi si sono stati restituiti poi? Questo non è dato saperlo, almeno io non ne sono a conoscenza. Naturalmente se non sono stati restituiti noi sollecitiamo chi di dovere, penso alla magistratura, a procedere al recupero di quelle somme. Riteniamo che i 6.000 cittadini che hanno sottoscritto la proposta di legge non possono essere offesi dal Consiglio regionale che dal mese di gennaio ha a disposizione la nostra proposta di legge e non la esamina. Il Consiglio regionale ha il dovere di rispettare la volontà dei cittadini. Ma gli indignati puntano l'indice su altre questioni estremamente importanti e gravi che la politica cerca di mettere a tacere. Noi siamo contro ogni forma di conflitto da parte di chi gestisce la cosa pubblica. Noi chiediamo ai cittadini molisani di ribellarsi rispetto anche alla posizione di frattura che è allo stesso tempo presidente di questa regione e deve decidere sulle centrali a biomasse e non solo sulle centrali a biomasse e fa anche l'imprenditore. Riteniamo che oltre a frattura ci sia un altro grande vero padrone di questa regione ed è l'europarlamentare di Forza Italia che si chiama Aldo Padricello. È il vero padrone del centrodestra ed è anche il vero padrone del centrosinistra molisano. E agli indignati ha replicato il presidente della prima commissione Francesco Totaro secondo il quale la commissione ha lavorato e continua a lavorare sul testo proposto dal comitato. Nel caso dovessero esserci dei rallentamenti ha comunque precisato Totaro. Chiederò il parere alla commissione sulla legge in modo da poterla iscrivere quanto prima all'ordine del giorno del Consiglio regionale per la discussione e il voto finale. A Isernia si scaldano i motori per le elezioni in via aberta. Ormai il quadro sembra definito un faccia a faccia tra Brasiello e Ricci dopo la rinuncia del sindaco di Capracotta, il servizio di Enzo Di Gaetano. Antonio Monaco, sindaco di Capracotta, candidato della prima ora alla presidenza della provincia di Isernia per il Partito Democratico, fa un passo indietro e in un comunicato stampa fa i suoi auguri alla candidatura di Luigi Brasiello, sindaco di Isernia, venuta fuori nel corso di una riunione tra sindaci preseduta dallo stesso governatore Frattura insieme al parlamentare Danilo Leva. Fin qui sembrerebbe che l'armonia regni in contrastata in casa PD, a dispetto dei contrasti di cui si parlava tra area cuperliana, quella che avrebbe dovuto sostenere Monaco, e l'area renziana, quella di riferimento per Brasiello. Ma scava scava, vengono fuori alcuni particolari che hanno un'importanza decisiva. In pratica alla riunione dei sindaci preseduta da Frattura e Leva non era presente Massimiliano Scarabbeo, ma neanche Michela Fanelli. E ancora, non erano presenti solo i sindaci d'area, ma anche diversi primi cittadini, espressione del centrodestra, come Di Pilla di Sandagapito, Sarau di Carpinone, Stasi di Macchia di Isernia e Russo di Monteroduni. L'impressione quindi è che più che un'alleanza di centrosinistra si stia preparando l'ennesimo papocchio in salsa molisana, con destra e sinistra allegramente in combutta sotto la regia di Paolo Frattura. Del resto la candidatura di Brasiello, così come quella dello stesso Frattura, hanno sempre avuto la connotazione della trasversalità tra gli schieramenti, a dispetto di idee e ideologie varie. Anche l'altro fronte, quello del centrodestra, non è che sia immune da trasversalismi. Infatti Alfredo Ricci, prima di essere il candidato indicato da Michele Eorio, è stato un sostenitore di Aldo Patriciello anche lui come Frattura, abile navigatore in tutti i mari, quelli di destra e quelli di sinistra. In conclusione, la lotta per la presidenza della provincia di Isernia, almeno una cosa l'ha sancita, la sepoltura anticipata della sinistra, con due candidati, Brasiello e Ricci, entrambi provenienti dalle aree moderate di centro. Sono in molti però che non danno ancora la partita per chiusa. Si tratta di quelli che restano in attesa di un comunicato di sostegno a Brasiello da parte di Massimiliano Scarabbeo. Torniamo a parlare di lavoro con la protesta dei dipendenti della formazione professionale che chiedono l'intervento della regione, il servizio di Marcella Tamburello. La crisi economica e lavorativa in Molise ha investito tutti i settori. La scuola da anni sta vivendo un periodo buio. Il sistema formativo dell'istruzione chiede da tempo il riordino regionale per sopperire anche alla situazione occupazionale e critica dei lavoratori che vi fanno parte e che ultimamente hanno iniziato a manifestare davanti i cancelli della regione per far sentire la propria voce. Il 30 settembre, infatti, scadrà il progetto finanziato con il Fondo Sociale Europeo in cui sono impegnati 90 lavoratori della formazione professionale in Molise. Bisogna subito rifinanziare il progetto, è il commento dei sindacati che seguono la vicenda. Ma il provvedimento non dovrà essere inteso come le solite proroghe di assistenza agli operatori, ma necessariamente come primo passo per il riordino del sistema regionale di orientamento permanente, hanno detto ancora i sindacalisti. Il lavoro non si mantiene con l'assistenza, ma con leggi adeguate, con linee guida, con garanzie operative e durature per tutti e con benefici per l'intero sistema. È la richiesta dei sindacati che rivolgono il proprio appello innanzitutto a Michele Petraroia, assessore al lavoro ed ovviamente anche a tutta la Giunta e al Consiglio regionale. Siamo in attesa di risposte concrete per garantire il futuro al settore della formazione professionale in Molise, hanno continuato dai sindacati. Intanto aspettiamo anche una legge quadro regionale che faccia da cornice alle politiche per l'istruzione, la conoscenza e la formazione professionale, così come prospettato proprio dall'assessore Petraroia, hanno concluso i sindacalisti. Quella che si avvia a concludersi è stata un'estate che verrà ricordata soprattutto per il cattivo tempo, anche se in questi giorni qualcuno è tornato a poter godere del sole e del clima che sembra allineato con le medie del periodo. Gli ombrelloni sulla costa molisana sono ancora aperti in qualche caso, ma comunque si è trattato di una stagione balneare fallimentare. Il servizio è di Fabrizio Occhionero. Lavoro in corso negli stabilimenti per mettere in archivio la stagione balneare. Nei lidi si lavano sdraio e lettini, si chiudono e si tolgono gli ombrelloni. Molti quest'anno non sono stati nemmeno aperti nel corso di un'estate condizionata dal maltempo che ha registrato un significativo calo delle presenze. Qualche fila resta ancora a disposizione dei clienti, ma anche nell'ultimo fine settimana le presenze giornaliere sono state poche. Per mantenere aperto uno stabilimento evidenziano gli operatori ci sono dei costi da sostenere. Sicuramente un calo, delle perdite intorno al 30-40%, facendo la media tra agosto che si è lavorato abbastanza, mentre i mesi di giugno, luglio e anche la prima settimana di settembre che è andata persa. Dopo un po' penalizzato un pochettino da questi lavori che hanno fatto il senso unico, e la pista ciclabrica non serve. E quindi sommato quello e quello il bilancio non positivo. Ma non ci lamentiamo, dai! Diversi giovani che durante l'estate hanno trovato lavoro negli stabilimenti e ora stanno per concludere una stagione che comunque ha offerto un'opportunità di guadagno. 15 settembre, ultimo giorno? No, noi stiamo fino a fine settembre. Noi stiamo crociando la spiaggia perché purtroppo con l'apertura delle scuole i primi di settembre è in automatico che la spiaggia va a morire. Sicuramente dovremmo lavorare per cercare di portare del turismo a settembre. Stare aperti a settembre solo con le persone del posto non è il caso perché ci sarebbero solo dei costi. E in spiaggia c'è chi approfitta del sole di questi giorni. Questa settimana quando andiamo via, ormai è finita, i primi giorni sono stati un disastro adesso diciamo così un po' di sole vediamo. Noi veniamo io da San Nicanto, loro due da Apricena e diciamo sì, ultimi giorni di mare. Cerchiamo di approfittare di questo bel tempo, questi ultimi giorni che ci restano. Di due feriti il bilancio di un incidente che si è verificato sulla Venafrana vicino Macchia di Sernia. Le cause dell'uscita di strada di una Fiat sulla quale c'erano cinque giovani di circa 20 anni finita fuori strada saranno accertate dalla polizia stradale. L'auto si è schiantata contro la recinzione di una concessionaria di auto. il conducente e il ragazzo che era sul sedile del passeggero sono rimasti feriti e trasportati dal 118 al Veneziale. Le loro condizioni non destano comunque preoccupazione. Illesi gli altri tre che erano sulla Fiat. Ora andiamo a Disernia dove due giovani imprenditori hanno aperto un laboratorio di informatica forense. Ci spiega di che cosa si tratta Sergio Di Vincenzo. Gli omicidi di Yara Gambirasio, Melania, Rea e Chiara Poggi ma non solo confermano quanto siano importanti non solo l'analisi del DNA ma anche tutte le tracce lasciate sui telefonini, sui computer e naturalmente sul web a partire dalle conversazioni su Facebook. Localizzare un segnale o recuperare file cancellati non è tuttavia facile. Occorrono grandi abilità informatiche e mezzi all'avanguardia per condurre le cosiddette indagini digitali. Ebbene, da oggi i lavori del genere sono possibili anche in Molise. Frutto dell'iniziativa di due giovani, a Isernia è stato infatti inaugurato un laboratorio di informatica forense. Quello aperto da Saverio Abbatiello e Paolo Vespone è il primo nel Molise e uno dei pochi in Italia. Io vedendo che comunque c'è una grande diffusione dei cybercrime, di crimini informatici quindi abbiamo pensato, abbiamo avuto questa idea di creare un laboratorio che facesse indagini formazione di sicurezza informatica, analisi e recupero dati. Ci sono delle attrezzature che servono per fare il recupero dai telefoni, dai tablet. Poi ci sono altre macchine che servono per fare il recupero dei dati, ma oltre il recupero ti permettono di poter aggiustare un hard disk che è rovinato. Se questa idea è diventata realtà, lo si deve al Master in Sicurezza Informatica e Digital Forensics curato da Mario Massimo Petrone, docente dell'Università del Molise. Si dice sempre che il Molise sia indietro sotto molti punti di vista, ma a quanto pare a livello di informatica è avanti. Credo che questo sia conseguenza di una caratteristica particolare del Molise, che è quella di consentire alle persone di intraprendere, di realizzare rapporti molto più profondi rispetto a quelli che normalmente si realizzano in contesti dove i numeri diventano poi proibitivi. Come dire, è vero che è importante il ruolo della struttura e delle strutture, ma è altrettanto vero che a rappresentare queste strutture ci siano persone che in un qualche modo poi convivono e compartecipano l'esperienza sul territorio. Smontare o confermare alibi oppure scovare prove schiaccianti sono possibilità che interessano da vicino sia agli avvocati sia ai magistrati e il parere di uno dei docenti del Master, Luigi Cuomo, già giudice al Tribunale di Sernia e oggi in servizio alla Corte di Cassazione. Non c'è una grossa indagine in grossi processi che non richieda l'analisi forense, quindi analizzare la vostra elettronica, i dispositivi che ognuno di noi ha. Quindi l'informatica è il mondo che ci circonda ed è opportuno conoscere le modalità a mezzo delle quali la prova viene assicurata, garantita e resa genuina. Analizzando talvolta questi dispositivi si può anche ricostruire un alibi, pensate al caso di Garlasco, oppure prendere il computer e verificare se al suo interno ci sono le tracce del reato. E' a disposizione dell'Istituto Zoo Profilattico per gli accertamenti la carcassa del lupo, un esemplare femmina che è stato trovato morto lungo la calreggiata della tangenziale di Campobasso in Contrada Macchie. A trovare l'animale gli agenti della Guardia Forestale. La femmina con molta probabilità è stata investita da un'auto, ma saranno gli accertamenti a stabilirlo con certezza. Invece una foto che racconta l'orrore che si è verificato alla periferia di Isernia, arriva dall'OIPA, l'Organizzazione della Protezione Animali. E' una volpe attaccata per la coda ad un albero con un petardo in bocca. L'animale è stato preso in consegna dagli agenti del Corpo Forestale che hanno disposto l'autopsia. La luce di questo grave episodio, la foto si riferisce a Contrada Solfatara tra Ravindola e Pozzilli, i volontari dell'OIPA hanno denunciato questo episodio alla magistratura. Chiunque abbia informazioni, anche in forma anonima, può contattare l'organizzazione. Grosso successo a Riccia per la tradizionale Sagra dell'Uva, che si ripete in città da 83 anni. Questa sarà ricordata come l'edizione di più grande afflusso di pubblico. Il servizio è di Marcella Tamburello. 83 edizioni, 18 carri, un paese in festa e migliaia di curiosi che hanno invaso Riccia. Sono i numeri dell'ultima edizione della Festa dell'Uva. Un successo unico che ogni anno cresce sempre di più e che manifesta il senso di appartenenza al proprio territorio e la cultura contadina molisana. Tantissimi ragazzi che ogni anno si uniscono ai veterani riccesi per costruire il proprio carro. Un evento di promozione per il nostro paese e di accoglienza per tutti, ha detto il sindaco. Credo che abbiamo raggiunto il massimo di tutti i tempi. Decine di migliaia di persone. Per fortuna finora è andato tutto bene. Non è facile perché i vicoli, le strade sono strette, la gente è tantissima e i carri sono enormi. Curatissimi, bellissimi, con la solita generosità nell'offrire i loro beni e la migliore rappresentazione non solo di Riccia, secondo me del Molise e anche della cultura agricola in generale. Tanti gli eventi collaterali che si sono svolti a Riccia per la Festa dell'Uva, durata tre giorni, in onore della Madonna Santissima del Rosario. Ormai la Festa dell'Uva è una festa consolidata, conosciuta dappertutto, ma quello che soprattutto secondo me fa tornare la gente a questa festa è il grande senso di ospitalità e accoglienza che ha la comunità riccesa. Secondo me questo è il segreto di questa festa. Dopo la sfilata dei carri che hanno invaso tutto il paese, la festa si è conclusa con l'esibizione del gruppo musicale lucano I Tarantolati di Tricarico. Come movimento musicale da me fondato questo esprimere il desiderio del nuovo, come fenomeno in sé il tarantismo è questa cultura antica del sud che mette insieme la danza, il movimento, quindi il movimento, il colore e la musica in una loro unità. Infatti chi balla la tarantella, la pizzica, rifà dei movimenti che possiamo osservare in qualsiasi museo sui vasi antichi. Risultato di grande prestigio per Sara Affifella, rappresentante molisana in gara a Miss Italia che si è piazzata tra le prime 12 e ha conquistato il titolo nazionale di Miss Curvy, Cotonella giudicandosi anche un contratto di lavoro di un anno proprio con la famosa marca Cotonella. Sara Affifella, 18 anni, di sesto campano, felice del risultato, ha ringraziato tutti i molisani che l'hanno seguita e tutti coloro che l'hanno votata. E adesso facciamo insieme a Fabrizio Chionero gli auguri a una nuova centenaria che ha festeggiato il secolo a Colletorto. L'invito è stato rivolto a tutto il paese e la risposta della comunità non è mancata per condividere un'intera giornata in suo onore. Una festa dedicata a Teresa Loia, classe 1914, che ha compiuto cento anni, circondata dall'affetto dei familiari, dei parenti, arrivati anche da fuori regione e di tutti i colletortesi che hanno affollato la casa in corso Vittorio e Emanuele. Insieme al marito Giovanni, la nonnina di Colletorto ha cresciuto due figli, Pasquale ed Elio, che da tanti anni l'assiste con amore e non le fa mancare nulla. Io adesso sto facendo in pratica quello che lei faceva con noi. Da 10 anni a questa parte sto assistendo mia madre con qualcuno che mi aiuta a poco tempo, però ho fatto questa sasura e penso che l'ho fatta andare avanti fino a 100 anni. Questa è la mia grande soddisfazione. Una salta punto di riferimento per tante famiglie, sempre impegnata in chiesa, nelle attività organizzate dalla parrocchia. Dal balcone che dà sul corso, Teresa ha visto il paese cambiare. L'insegnamento più importante è stato sempre quello di rispettare gli altri, di cominciare a rispettare dai parenti ai vicini di casa e a tutti quanti. Anche mio paro ci hanno sempre insegnato a un massimo rispetto verso gli altri. Per Teresa Roia anche una targa da parte dell'amministrazione comunale. Oggi è una giornata molto importante per tutta la comunità colletortese perché la nostra compaesana, Zia Teresa, raggiunge la bell'età di 100 anni. È una giornata importante perché Zia Teresa rappresenta un patrimonio, il patrimonio di Colletorto, ricco di esperienze, di culture, di tradizioni anche. E sulle immagini della festa della centenaria di Colletorto termina anche l'edizione delle 23 del nostro telegiornale che andrà in onda in replica fino al prossimo appuntamento in diretta con l'informazione di Telemolise. La rassegna della stampa per ora è tutto. Grazie per averci seguito e buonanotte. Grazie per averci seguito e buonanotte.